La voce dell'Agenzia, rubrica di informazione fiscale a cura dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna. 4 aprile 2018, altra puntata del giornale radio online dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna. Un cordiale saluto vi giunge da parte di Biagio Cunzolo in studio oggi con Tiziana Sabatini e Gianfranco Mingione per la parte tecnica. Questi i titoli delle notizie che tratteremo in questa puntata. Si avvicina il periodo della dichiarazione dei redditi. A partire dal 16 aprile l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati in un'area riservata del sito internet il modello 730 precompilato. Dalla seconda metà di aprile i contribuenti che si collegheranno al sito dell'Agenzia delle Entrate per consultare la loro dichiarazione dei redditi precompilata potranno conoscere come sono state distribuite le imposte versate relative all'anno 2016. Prosegue con l'Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburgo di Bologna il progetto Un Consulente in Famiglia e il percorso di alternanza scuola-lavoro di 100 ore promosso dall'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna. Prorogato il bonus per gli acquisti di strumenti musicali nuovi effettuati nel 2018. Ed entriamo dentro ciascuna delle notizie di questa puntata. Lo ricordiamo edizione del 4 aprile 2018 si avvicina dunque il periodo della dichiarazione dei redditi. A partire dal 16 aprile l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati in un'area riservata del sito internet il modello 730 precompilato. Per poter accedere alla dichiarazione precompilata, eventualmente modificarla o inviarla direttamente online lo ricordiamo è necessario essere muniti del PIN Fisco Online oppure dell'identità SPID del PIN dispositivo IMSS o della Carta Nazionale dei Servizi. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che il PIN per i servizi telematici si può richiedere o attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate, l'indirizzo è questo www.agenziaentrate.it oppure in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, compresi anche gli uffici del territorio proprio l'ufficio dell'ex Catasto per intenderci oppure contattando il seguente recapito telefonico lo ricordiamo, è un numero ormai conosciuto a tutti 848 800 444 oppure attraverso l'app dell'Agenzia delle Entrate è scaricabile sul proprio smartphone Dalla seconda metà di aprile, rimaniamo in tema di 7.30 precompilato dicevamo che dalla seconda metà di aprile i contribuenti che si collegheranno al sito dell'Agenzia delle Entrate per consultare la loro dichiarazione dei redditi precompilata potranno conoscere come sono state distribuite le imposte versate relative all'anno 2016 l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate è volta a rafforzare il senso di partecipazione dei cittadini che in questo modo potranno seguire il percorso del loro contributo economico all'amministrazione e gestione dello Stato diventandone più consapevoli sarà disponibile una pagina informativa con cui il cittadino potrà avere la sintesi di come lo Stato ha destinato le imposte relative alla sua dichiarazione dei redditi 2017 per intenderci la dichiarazione che riguarda l'anno fiscale 2016 contribuire alla propria comunità essenziale l'Agenzia delle Entrate ritiene che lo sia anche avere la consapevolezza per rispetto del cittadino prima ancora che del contribuente di come vengano utilizzate le risorse fiscali e passiamo adesso alle notizie a carattere regionale prosegue con l'Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburgo di Bologna il progetto Un Consulente in Famiglia il percorso di alternanza scuola-lavoro di 100 ore promosso dall'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna che affianca la consueta sensibilizzazione sulla legalità fiscale una sezione laboratoriale dedicata alla dichiarazione dei redditi online 7.30 precompilato e due settimane di stage presso l'ufficio territoriale di Bologna 1 e Bologna 2 in studio con noi abbiamo Tiziana Sabatini che segue appunto questo progetto che ci fa il punto della situazione benvenuta Tiziana grazie Biagio, buongiorno a tutti dal 9 al 20 aprile quindi 12 studenti della classe quarta BA dell'Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburgo affiancati dal tutor Paola Pisapia per l'ufficio territoriale di Bologna 1 e Giancarlo Valentino per l'ufficio territoriale di Bologna 2 si alterneranno in attività di back office e altre attività che prevedono invece il contatto diretto con il pubblico ad esempio il supporto al contribuente nella fase di orientamento e compilazione della modulistica la registrazione dei contratti di locazione gli addempimenti successivi l'attribuzione del codice fiscale durante il laboratorio sulla dichiarazione precompilata invece i ragazzi avranno l'opportunità di conoscere come si richiede il codice PIN online, cosa è possibile fare con il codice PIN e le informazioni e i documenti che sono contenuti nel cassetto fiscale potranno quindi aiutare i loro familiari, i loro genitori su come accedere, modificare e inviare la dichiarazione dei redditi il percorso come di consueto termina con la partecipazione dei ragazzi all'open day dedicato al 730 precompilato i familiari degli stegisti che aderiranno all'iniziativa potranno trasmettere la loro dichiarazione con l'aiuto dei funzionari dell'agenzia delle entrate ecco Tiziana da Bologna ci trasferiamo a Piacenza a Piacenza si è già concluso il percorso di alternanza scuola-lavoro abbiamo un contributo da proporre agli ascoltatori un contributo del nostro corrispondente da Piacenza Sandro Mosca cominciamo con Gabriele, come è andata? bene bene, oggi è stata un'esperienza molto bella oggi abbiamo imparato molte cose che a scuola non possono farti imparare la storia, mi è piaciuta molto la storia che hanno raccontato su questo posto è un'esperienza da rivivere invece Cosimo che vediamo sorridente, come te l'hai scavato? anche per me è stata un'esperienza nuova è assolutamente da ripetere la cosa che mi è piaciuta di più è stata quando hanno spiegato il catastro quindi come venivano effettuate le varie misurazioni come venivano effettuate le varie tassazioni e varie cose di questo tipo beh, sicuramente è un'esperienza da ripetere Sandro Mosca vi ringrazia per il cortese ascolto e vi dà appuntamento ai prossimi appuntamenti scusate il gioco di parole con scuola-alternanza-lavoro e grazie, noi riprendiamo la linea dallo studio centrale rimaniamo in tema di studenti anche se parliamo di una notizia a carattere nazionale perché è stato prorogato il bonus per gli acquisti di strumenti musicali nuovi effettuati nel 2018 possono usufruire del bonus gli studenti iscritti ai licei musicali ai corsi pre-accademici corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di primo e di secondo livello dei conservatori di musica degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica il contributo, lo ricordiamo, sotto forma di sconto spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse dovute per l'iscrizione all'anno scolastico 2017-2018 oppure 2018-2019 per un importo non superiore al 65% del prezzo e per un massimo di 2.500 euro agli studenti che hanno già beneficiato dell'agevolazione nel 2016 e nel 2017 lo sconto spetta al netto del contributo già fruito ebbene, era questa l'ultima notizia di questa edizione della radiogiornale online targato 4 aprile 2018 ringraziamo Tiziana Sabatini presente oggi in studio insieme con Gianfranco Mingione da parte di Biagio Consoli il cordiale saluto a tutti e a risentirci alla prossima